Siamo molto arrabbiati perché abbiamo appoggiato una mozione che andava nel verso di istituire nel più breve tempo possibile il garante per l'infanzia che è vacante dalla scorsa legislatura. In una regione dove ci sono 600 minori distribuiti in 120 strutture non c'è un garante che va a verificare che cosa sta avvenendo in queste strutture. In un momento in cui la povertà sta aumentando, i disagi anche dei minori stanno aumentando, in Toscana il PD non vuole sentire parlare di garante per l'infanzia. Oggi ha votato contro questa mozione che direbbe, come dice la legge 26 del 2010, di istituire al più presto un garante. Grazie. 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 Grazie.